Ciao ragazzi, oggi in una missione, il demone del monte Yei. Con il compenso, è una missione storia, non più una missione secondaria. Il candele è avvocatole per uno, tenuta da caccia del mago Omnio, tenuta da caccia del mago Omnio Joy. Pronti? Via! Il monte Yei si trova al nord-est di Kyoto. Per molti anni ha svolto la funzione di barriere naturale che teneva il demone a maledizioni fuori dalla capitale. Ora questa magica barriera è sul punto di crollare, grazie alle lance piantate da Kelly. Dobbiamo andarci immediatamente, va bene? Vivente Kelly è Edward Kelly. Nel tempo, il monte Yei era un luogo di adorazione di imponente base militare. Nel 1971, Oda Nobunaga l'ha dato in passo alle fiamme, per poi decapita da ogni uomo, donna o bambina sopravvissuti. Mi pare giusto. Procediamo. Eccoci qua. In montagna, la scampanetta lo dottor... Non è, l'acqua. Giovana. E' un'acqua. E' un'acqua. La scampanetta lo dottor... Grazie a tutti 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 Peccato Peccato Mortili Mortili Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok 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 Grazie a tutti 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 One way Grazie a tutti 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 Oh no Grazie a tutti 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 Abbiamoiamo Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non possiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti